L'inchiesta è partita dopo la segnalazione della presidente di Croce Rossa italiana di Sondrio Giuliana Gualteroni. I due volontari circolavano a bordo dei mezzi CRI anche fuori dei confini provinciali facendo il piano con la prepagata dell'associazione. Pubblicati oggi i dati comparativi di CGL nella nostra provincia persi più di 5.000 posti in tre anni e per fortuna che c'è il blocco dei licenziamenti, come al solito quella delle lavoratrici donne è la categoria più tartassata. La decisione è stata presa in seguito all'esito dei test salivari effettuati su alunni e personale della scuola a preoccupare anche il numero di positivi in paese. Il primo cittadino, Grosini, tenete duro o sarà costretto ad adottare misure ancora più drastiche. Christopher Prina, terza generazione della più antica famiglia di giostrai della valle, da oltre un anno non lavora. Ha protestato con i colleghi a Roma e a Milano ma finora nulla si è mosso. Le giostrine sono equiparate negli stop ai parchi divertimento e intanto sbarcare il lunario diventa sempre più difficile. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di Telesondrio News. L'accusa è quella di peculato. Indagati i due volontari della sezione sondriese di Croce Rossa italiana, REI, di aver utilizzato mezzi e carta carburante dell'associazione a proprio piacimento anche fuori dei confini provinciali. A far scattare le indagini una segnalazione della presidente Croce Rossa italiana di Sondrio. Ne parliamo nel primo servizio di questa serata. È partita su segnalazione del presidente della sezione sondriese della Croce Rossa italiana, Giuliana Gualteroni, l'inchiesta che vede impegnati i carabinieri del comando di Sondrio. Qualcosa non tornava dai controlli operati abitualmente e con ferrea regolarità da parte del personale di Croce Rossa italiana sull'utilizzo degli automezzi e dei beni dell'associazione ad emergere una serie di anomalie che lasciavano intravedere un utilizzo improprio operato sugli stessi materiali da parte di due volontari di Croce Rossa italiana individuati dopo alcuni approfondimenti. Da quanto appreso, ma le indagini da parte dei militari dell'arma sono ancora in corso, i due operatori sui quali si è concentrata l'inchiesta avrebbero più volte utilizzato mezzi di trasporto appartenenti a Croce Rossa italiana per finalità proprie ed estranee alle attività di Croce Rossa, facendo oltretutto uso della carta carburante abitualmente utilizzata proprio per il rifornimento dei mezzi per finalità proprie, veicoli che dai due indagati sarebbero stati utilizzati anche per spostamenti al di fuori della provincia di Sondrio. In un comunicato redatto quest'oggi dalla Croce Rossa italiana di Sondrio, dopo una riunione tenuta questo pomeriggio, si legge «Croce Rossa italiana è un'associazione fondata su chiari principi di onestà e correttezza sulla base di un codice etico e precisi regolamenti. Chi indossa la nostra divisa deve essere consapevole del grande significato che ha il nostro emblema. Non si possono tollerare comportamenti che ledano l'immagine dell'associazione e non siano rispettosi di tanti volontari che dedicano il loro tempo ad aiutare gli altri. Vigiliamo sull'operato di tutti perché la popolazione possa mantenere inalterata la fiducia che ci riserva. Ringraziamo le forze dell'ordine che hanno agito con grande tempestività permettendoci di ripristinare quanto prima ordine e trasparenza». Pubblicati oggi dalla CGL provinciale i dati comparativi rispetto al 2018 sul mondo dell'occupazione. Il quadro è drammatico considerando che da tre anni a questa parte nella nostra provincia sono andati persi più di 5.000 posti di lavoro. Sentiamo. Guglielmo Zamboni, segretario provinciale CGL Sondrio. Oggi la pubblicazione sui dati occupazionali sono dati comparativi tra il 2019 e il 2020. A leggerli c'è veramente poco di cui stare allegri. Sì, al netto di un provvedimento indispensabile e fondamentale quale è stato il blocco dei licenziamenti che ha sicuramente calmiarato il fenomeno. Abbiamo voluto fare questa nasi che ci consente di confrontare un anno pre-pandemia e un anno durante il quale abbiamo vissuto per intiero questo fenomeno e si evince che c'è stato un forte calo di posti di lavoro pagato dai lavoratori precari, pagato da tutte quelle persone che non avevano un contratto a tempo indeterminato e che quindi non avevano con sé la tutela garantita dal blocco dei licenziamenti. Ecco, nel 2019 34.296 attivazioni, nel 2020 25.256, qui c'è un gap di 9.000 posti. Sì, diciamo che abbiamo voluto analizzare la situazione sui due anni e poi fare anche i saldi del bienio. Il problema vero è che emerge da questa analisi che c'era stato un forte incremento occupazionale nel 2019 e anche figlio di una stagione estiva e anche quella invernale fino allo scoppio della pandemia che è stata eccezionale su tutti i punti di vista. Purtroppo poi quello che abbiamo perso nel 2020 ha fatto perdere l'incremento del 2019 e se era affrontato con il 2018 i dati diventano ancora maggiormente drammatici. Ecco, tra 2019 e 2020 poi si è tradotto nella perdita di 4.000 posti di lavoro. Sì, abbiamo stimato in circa 4.000 i posti di lavoro persi nel 2020 ma sostanzialmente se ci confrontiamo rispetto al 2018 arriviamo a 5.000 posti. La crisi non è solo dell'ambito stagionale. Sì, diciamo che la crisi ha impattato prevalentemente sul settore turistico e un po' meno sul settore commerciale. Chiaramente il terziario è quello che ha pagato di più da fronte anche dei servizi questa crisi. Poi c'è comunque tutto il tema legato all'industria, quindi i fermi che ci sono stati, le difficoltà nello scambio con l'estero. Nel vostro comunicato parlate anche di gender gap, ossia della differenza di calo occupazionale tra uomo e donna e in questo caso ci rendiamo conto che anche questa volta l'Italia è penalizzata maggiormente soprattutto per il settore lavorativo femminile. Sì, l'abbiamo voluto mettere in evidenza perché se ci soffermiamo solamente ai puri numeri non emergerebbe nella sua drammaticità questo tema. Sull'occupazione femminile pesano dei fenomeni quali per esempio la durata inferiore dei contratti a termine perché hanno minor potere contrattuale, il fatto che spesso e volentieri sono vittime di quel fenomeno che abbiamo chiamato come part time involontario e anche il fatto che se analizziamo l'occupazione a tempo indeterminato c'è una larga preponderanza di occupazione maschile e una minoranza di occupazione femminile. Per ultimo Zamboni, c'è una flebile luce alla fine del tunnel che potrebbe chiamarsi riconversione o riconversione verde, questa cosa è plausibile pensarla oggi? Non è plausibile pensarla, andrebbe aperta questa discussione, siamo molto fiduciosi negli interventi che saranno messi in campo attraverso i recovery plan che sono la declinazione nazionale del Next Generation EU, aspettiamo però con ansia che parta una discussione territoriale perché al momento di riconversione non se ne parla non è pensabile che passata la pandemia si torni come si era prima. Dalle 12 di oggi, mercoledì 7 aprile, è attivo il portale di poste per le prenotazioni delle vaccinazioni anti-covid-19 per gli over 80 che non hanno ancora aderito alla campagna vaccini. La direzione welfare ricorda che i cittadini per aderire possono utilizzare il canale digitale che spiega la modalità di prenotazione online al sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it il call center all'800-894-545, la rete capillare dei 1.083 postamat presenti sul territorio regionale lombardo da fruire con la tessera sanitaria e la rete degli oltre 4.000 portalettere presenti in Lombardia. I postini rilasceranno la ricevuta necessaria all'utente per presentarsi al centro erogazione dei vaccini. In tutti questi casi la prenotazione è diretta e non necessita di una preadesione. Da oggi sono riaperte le scuole per i più piccoli nella nostra provincia. Il ritorno tra i banchi è toccato ai 2.907 bambini iscritti alla scuola dell'infanzia, ai 7.798 studenti della primaria e ai giovani alunni che frequentano la prima media. La decisione di tornare alla didattica in presenza va incontro alle esigenze delle famiglie. Simone Belletti. Tutti in classe o quasi. Da oggi sono riaperte le scuole per i più piccoli. Tornano in aula per decisione del nuovo decreto Draghi, in vigore da oggi, i piccoli alunni di asilia e gli studenti dell'elementare e delle prime medie. Nella nostra provincia il ritorno tra i banchi è toccato ai 2.907 bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, ai 7.798 studenti della primaria e per i giovani iscritti alla prima media. Una situazione che non si verificava dal 4 marzo scorso, ultimo giorno prima del passaggio della Lombardia in zona arancione rafforzato, che ha previsto la Dada al 100%. L'alba di una nuova era per i giovani studenti che questa mattina hanno potuto riascoltare il suono della campanella. Una forte emozione all'unisono, anche per insegnanti e genitori. Il ritorno a scuola risveglia vecchie emozioni e abitudini. Sicuramente siamo molto contenti di essere qui, ritrovare i nostri alunni, poter riprendere l'attività in presenza. Tutti noi abbiamo bisogno di relazioni, in modo particolare i ragazzi, i bambini. Abbiamo bisogno di sperimentare insieme, di contatti, di fisicità, di esperienze concrete. Quindi ciò che avviene come apprendimento in presenza è sempre di qualità migliore. La decisione di tornare alla didattica in presenza per i più piccoli va incontro alle esigenze delle famiglie. Ricordiamo inoltre che le famiglie, che hanno dato molto in questi giorni, hanno bisogno comunque di essere sollevati da questo carico di cura. E quindi assolutamente la scuola deve continuare a riaprire per tutti, anche per i ragazzi più grandi se possibile. Sono contenta perché comunque loro hanno bisogno di stare in mezzo ai propri compagni, di giocare. Sono contenta, sì. Penso che la scuola sia indispensabile e sia il futuro dei nostri bambini. Quindi non vedevo l'ora proprio che ne cominciassero in primis per loro, che ne hanno veramente bisogno. Ma poi anche per i genitori che comunque sono ritrovati dal giorno al domani in uno stato di confusione totale, senza informazioni, senza nulla. Sono contenta e soprattutto molto contenta per i bambini che si ritrovano. Sono molto contenta, anche mia figlia che è piccolissima e contentissima di tornare a scuola. Mia figlia è grande e già andava perché era con sostegno. Loro già tutto l'anno avevano frequentato e ci sono stati casi, però con la classe andava in quarantena e non ci sono stati grandi problemi. Sono sorti parecchi problemi nella fruizione della didattica a distanza per i bambini. La fatica di lavorare davanti a uno schermo si è fatta sentire nell'ultimo periodo. Io come mamma ho notato un'enorme difficoltà nella dad, perché comunque il bimbo di terza elementare ovviamente non è pronto, anche al momento così drastico. Noi genitori non siamo pronti, neanche noi, perché comunque siamo trovati a gestire lavoro, famiglia, tutti insieme. Io stesso ho fatto difficoltà, il bambino stesso, anche pure nei compiti, è tornato un po' indietro proprio con lo svolgimento dei compiti in autonomia, fatica nello studio. La bambina dell'asilo ne ha tanto risentito invece, perché lei comunque, essendo una bambina molto socievole, aveva proprio momenti di pianti, perché povera, lei voleva andare a scuola, cercava la compagnia, ma non si poteva. Qualche genitore è contrario ad estendere all'apertura della scuola gli studenti più grandi. Eviterei dove possibile, soprattutto per i mezzi di trasporto e gli assembramenti che si possono creare in queste situazioni qui. Con i bambini piccoli è un attimino diverso. Rientro in classe dopo le vacanze di Pasqua posticipato per i piccoli dell'asilo, per i ragazzini di primaria e prima media di Grosio. Lo ha stabilito il sindaco sulla scorta dell'esito dei test salivari, a cui si è sottoposto circa il 60% di alunni e personale della scuola. Troppo pericoloso in un momento in cui anche la percentuale dei positivi in paese è molto preoccupante. Sentiamo Sara Baldini. Quasi 14.000 bambini e ragazzini che oggi, anche in provincia di Sondrio, sono tornati sui banchi di scuola. Si tratta degli alunni dell'istruzione di primo grado, oltre ai bambini dei nidi e ai ragazzi di prima media, di nuovo in presenza dopo a settimane, dal 5 marzo scorso per la precisione, che hanno messo durissima prova famiglie con entrambi i genitori e lavoratori e pazienza dei nonni. Rientro per tanti, ma non per tutti, e in questo caso non si tratta soltanto degli alunni di seconda e terza media e dei ragazzi delle superiori. A Grosio oggi nessuno ha fatto ritorno a scuola. Lo ha deciso il sindaco e neppure ad oggi si conosce la data che segnerà il riavvio delle lezioni in presenza. Non ho potuto fare nient'altro che chiudere le scuole per la sicurezza di tutto il paese. Abbiamo fatto, abbiamo il comune, ha deciso, prima del rientro dalle scuole, abbiamo deciso come amministrazione di fare un test massivo su tutte le persone coinvolte che dovevano rientrare a scuola tra docenti, assistenti e bambini che vanno dall'asilo, tutte le elementari e fino alla mina media. I soggetti coinvolti erano più di, erano attorno ai 500 e purtroppo se ne sono presentati solamente 307. Su questi 307 abbiamo avuto nove casi positivi di cui sette bambini e due assistenti scolastiche. Troppo rischioso per il sindaco Pini riaprire le scuole alla luce di questi numeri. Significa avere un RT attorno al 3,5% rispetto al 1,25% nazionale però la cosa che ci preoccupa di più sono i 200 che non sono venuti perché se noi andiamo a prendere anche i 200 che purtroppo per vari motivi che non si sono presentati a questa campagna che abbiamo voluto fare magari potremmo trovare ancora più persone positive e questo avrebbe ancora incrementato di più i numeri che sono usciti da questo screening. Si è presentato praticamente solamente il 60%. Se avessimo avuto tutta la totalità o quasi di tutto il comparto scuola che abbiamo chiesto di sottoporsi al test magari avremmo potuto prendere altre decisioni perché logicamente se riuscivamo a testare tutte le 500 persone e avendo isolato i positivi sicuramente il Comune non avrebbe preso questa decisione. Avremmo lasciato andare le scuole come dovevano andare perché avremmo eliminato il possibile pericolo di contagio. Nessun ripensamento da parte del primo cittadino per questa decisione che molte famiglie avranno accolto con disappunto. Pensiamo di aver preso una decisione corretta e aspettiamo adesso il prossimo test che faremo massivo sperando che tutti partecipino a questo test qui per veramente rendere sicure le scuole. L'intenzione per riaprire in sicurezza le scuole di Grosio è quella di far sottoporre a tampone anche le 200 persone che non hanno risposto alla prima chiamata e possibilmente estendere lo screening all'intero paese dove la situazione attualmente è assai preoccupante. Abbiamo veramente dei numeri da far paura perché tra il secondo e la terza ondata abbiamo 646 persone che sono state positive al Covid di cui 127 in questo momento sono positive e di cui in queste 127 purtroppo ce ne sono 22 all'ospedale. Dal sindaco un appello accorato ai propri amministrati. Dobbiamo tenere duro ancora secondo me un mesetto dopo con la campagna di valutazione che sta facendo la regione Lombardia e il caldo secondo me potremmo tirare un sospiro di sollievo però veramente di cuore chiedo veramente a tutti di fare un ultimo sforzo e rispettare veramente in maniera molto rigida rigida le direttive che ci sono a livello nazionale. Se questo non succederà purtroppo il Comune prenderà altri provvedimenti perché così non è più possibile andare avanti. Vigili del Fuoco di Sondrio al lavoro questa sera intorno alle 18 in località Luviera nel territorio comunale di Castello dell'Acqua per un incendio dovuto alla combustione di alcune sterpaglie. Due, le squadre dei pompieri al lavoro che si stanno occupando dello spegnimento del rogo con l'aiuto dei volontari dell'antincendio boschivo della comunità montana. Non si conosce ancora l'estensione dell'incendio divampato nella stessa area in cui circa una settimana fa si sviluppò un altro rogo. Ed ora la storia di uno speciale figlio d'arte che non vorrebbe che la tradizione di famiglia ora che si sta affacciando la quarta generazione si interrompesse. Purtroppo causa misure anti-covid da oltre un anno con la sua attività è fermo ed il futuro è e resta assai incerto. Sentiamo. Christopher li chiama i miei bambini e in effetti lo sono. Ne ha centinaia, migliaia, in tutta la valle. Li ha conosciuti mentre si sporgevano per conquistare la coda pelosa che avrebbe regalato loro un altro giro. Poi sono cresciuti e ad acciuffare la coda ora ci portano i propri di figli mentre loro se ne stanno a bordo giostra a sorvegliare sul divertimento dei piccoli. Christopher Prina è figlio d'arte, nonno giostraio, papà giostraio e se la situazione, si spera, cambierà nei mesi a venire. Anche uno dei suoi tre figli vorrebbe portare avanti la tradizione di famiglia dando vita così alla quarta generazione dei Prina giostrai. Ora però pensare al futuro è molto molto complicato. Dopo oltre un anno di non lavoro a parte una parentesi di un paio di mesi la scorsa estate e dopo oltre un anno in cui ai colori delle giostre si sono sostituiti quelli delle zone con i conseguenti stop all'attività. Questa è una parte della mia attrezzatura ormai ferma da più di un anno collaudata, revisionata in attesa di ripartire. La preoccupazione è tanta anche perché al pari di negozianti, ristoratori e numerose altre categorie questi stop prolungati e l'eseguità dei ristori stanno letteralmente gettando sull'astrico centinaia di migliaia di persone giostrai compresi. Aspettando sti benedetti ristori io mi adatto. Fortunatamente ho degli amici che saltuariamente esporadicamente mi danno delle piccole opportunità lavorative per sbarcare un attimino al Lunario molto raramente. Mio figlio quarta generazione entusiasta di intraprendere le orme del padre ma in questo periodo bastoni tra le ruote anche lui devo ringraziare tantissimo purtroppo umiliante mio padre pensionato e mia madre anche che ci dà una grossa mano. Prina insieme ai colleghi che animano feste sagre in Valtellina ha portato anche fuori dai confini della provincia la richiesta di poter riaprire in sicurezza. Ho partecipato anch'io con tutti i miei colleghi della Valtellina alle varie manifestazioni in tutta Italia Roma, Milano il risultato per ora non si vede aspettiamo contributi speriamo che arrivino al più presto. Giostraio della Bassavalle spiega che l'equiparazione di giostre a parchi divertimento fa sì che le prime si trovino a condividere le medesime misure dei secondi in realtà una possibilità per riaprire i giostrai l'avrebbero e dipende dalle singole amministrazioni comunali. spero vivamente che al più presto i sindaci adottino l'opportunità datagli dal governo di mettere in atto il ludico ricreativo e ci dia al più presto ci diano al più presto l'opportunità di riaprire con tutte le normative e le tensioni del caso. In attesa di tempi migliori Cristian ha un saluto tenerissimo da fare. Vorrei cogliere l'occasione di salutare tutti i miei bambini che non vedo da un anno mi mancate tanto spero di rivedervi il più presto un in bocca al lupo e speriamo in bene. Non solo il Giro d'Italia con lo storico arrivo il 29 maggio all'Alpe Motta e il Giro Under 23 in Val Malenco la Corsa Rosa da sempre vetrina turistica oltre che evento sportivo ci propone anche il Giro E quello che si corre con le biciclette a pedalata assistita l'ultimo sopralluogo ha dato parere favorevole la Val Chiavenna ospiterà anche queste biciclette ultima frontiera tecnologica per gli amanti delle nostre salite Paolo Croce L'anno scorso ottobre era stato ribattezzato il Giro della Rinascita poi in realtà la Rinascita si è fatta un po' attendere e siamo ripiombati nella pandemia più totale quest'anno Valtrino e Val Chiavenna ci riprovano Giro d'Italia con l'arrivo il 29 maggio all'Alpe Motta e Giro Under 23 in Val Malenco e poi c'è la novità il Giro E ma andiamo con ordine il Giro Under 23 con partenza da Piazza Garibaldi a Sondro toccherà Chiuro Castionetto Tresivio Montagna Albosaggia prima di salire in Val Malenco e sarà una bella vetrina oltre che una gara sportiva di prim'ordine sicuramente una bella tappa con un bel dislivello sarà il 9 di giugno e quindi speriamo veramente di molta partecipazione un'altra cosa sicura è che quel giorno lì ci saranno le riprese dall'elicottero per l'intera tappa perché quindi poi potremo valorizzare queste immagini qui per usarle per il nostro territorio e poi c'è il Giro E sulle strade della Corsa Rosa con biciclette a pedalata assistita stesse tappe del Giro d'Italia nelle stesse date cambia solo la partenza con percorsi leggermente accorciati c'è stato un sopralluogo e la conferma definitiva oltre alla tappa del Giro d'Italia ci sarà il Giro E il Giro E oramai c'è da 4 anni il primo anno era l'anno 0 da 3 anni c'è precede la tappa del Giro d'Italia sempre la stessa giornata ma il mattino precede la tappa del Giro d'Italia chiaro non viene fatta l'intera tappa ma in genere sono gli ultimi 50-60 km arrivano sotto lo striscione d'arrivo del Giro quindi poi le loro premiazioni sul podio d'arrivo e il bello questa volta partirà da Madesimo all'Alpe Motta quindi una cosa molto bella che valorizzerà Madesimo la cittadina di Madesimo che al mattino dove ci sarà il podio firma abbiamo proprio creato tutto un villaggio è tutta una una carovana che segue a sé quindi parte da Madesimo scende a Campodolcino risale verso Madesimo rifà il percorso ancora un'altra volta doppio circuito anche qui la seconda volta poi con arrivo all'Alpe Motta nel frattempo il consorzio turistico della Val Chiavenna lancia il contest fotografico Val Chiavenna in Rosa domani giovedì 8 aprile a un mese dall'inizio della corsa l'illuminazione rosa di uno o più monumenti in contemporanea in tutte le località di Tappa un premio speciale per la vostra foto più bella per informazioni sul concorso il consorzio turistico della Val Chiavenna è a vostra disposizione la corsa rosa è già iniziata ed ora il calcio a 5 tre punti pesantissimi ottenuti ieri sera all'ultimo respiro contro il Leone rilanciano l'MGM 2000 nella corsa salvezza per i morbeniesi si tratta del terzo successo casalingo consecutivo a testimonianza della crescita esponenziale che ha avuto la squadra nella seconda parte della stagione vediamo un'emozione bellissima che può dare questo sport perché veramente un secondo in questo sport qua può cambiare veramente tutto non abbiamo mai mollato ci abbiamo creduto fino alla fine e devo dire che abbiamo meritato questa vittoria tre punti pesantissimi che sono il simbolo di una squadra che non vuole mollare mai il gol vittorio è arrivato quando sul cronometro mancavano solo tre secondi il colpo di testa di Stefano Grameni ha fermato il tempo regalando un successo che potrebbe cambiare il destino dell'MGM 2000 la situazione resta complicata ma l'obiettivo primario di centrare la salvezza attraverso i play out ora è più vicino un anno complicato il primo in un campionato nazionale fu unestato dal covid e dai rinvii ma che in questa ultima parte sta regalando un team con uno spirito guerriero sempre più unito ieri sera al palafaedo di Morbegno gli uomini di Gian Maria Craperi hanno superato in un match al cardiopalma il Leon per 3 a 2 nella ventesima giornata del campionato di serie B oggi secondo me meritavamo la vittoria era fondamentale però insomma alla fine se non vinciamo sabato lo scontro diretto non serve a nulla siamo contenti da morale e fa capire a tutti noi che stiamo lavorando duro per riuscire a rimanere in categoria e l'augurio personale che mi faccio l'anno prossimo vedere il palazzo pieno perché Morbegno merita questo spettacolo una bella emozione una bella emozione vincere a 3 secondi dalla fine dopo che però sinceramente abbiamo visto sfumare la vittoria e credo di poter dire in tutta tranquillità che meritavamo i 3 punti peccato che abbiamo preso il gol a 2 minuti dalla fine col portiere di movimento e quindi abbiamo visto vanificare un attimino quello che era un po' la vittoria che stavamo conquistando il problema è che siamo insieme ci alleniamo uniti e tutti quanti da 2-3 mesi io penso e la butto lì se fossimo stati se io personalmente fossi stato qui da settembre d'agosto dipendentemente da quello che hanno fatto gli altri senza togliere nulla ci mancherebbe con tutti gli altri che siamo oggi penso che stavamo parlando di un'altra classifica ora la distanza dalla zona play-out occupata dal Val di Lanz avversario di sabato è solamente di un punto la prossima partita contro i piemontesi diventa così un vero spartiacque rimane accesa anche la fiammella della salvezza diretta anche se la sconfitta di venerdì scorso contro il Cagliari-Fuzzal ha reso tutto ciò una missione quasi impossibile la sfida di ieri è stata decisamente equilibrata a sbloccare l'incontro ci ha pensato Di Gregorio sul finire della prima frazione con un euro-goal pareggio del Leone al 27esimo della ripresa grazie a una perla di Costantino poi nuovo sorpasso nero-verde con Gramegna a due minuti dal termine ancora Costantino per gli ospiti ha firmato il 2-2 sembra finita ma non è così a tre secondi dalla sirena da un corner Gramegna ha trovato il pertugio giusto e di testa ha sancito il 3-2 definitivo mandando in estasi i valtellinesi e questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale appuntamento alle prossime edizioni del TG di TeleSondrio News buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti